Ufficio postale di Campovalano a Campli, 11 del mattino del 22 novembre scorso. Un palo fuori che controlla è un altro uomo che con il passamontagna entra e punta un coltello seghettato al collo di una dipendente che terrorizzata gli consegna tutto ciò che aveva in cassa, 300 euro. Una rapina violenta per quasi nulla, come da anni non se ne vedevano e che tanto timore aveva suscitato tra i residenti della zona. Oggi il caso è chiuso. I due responsabili teramani di 35 e 36 anni hanno confessato e sono stati arrestati. L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo e sviluppata dalla squadra mobile della Questura. Abbiamo individuato i responsabili di una rapina all'ufficio postale di Campli, grazie all'incomeabile opera della squadra mobile della Questura di Teramo, che ha individuato i responsabili che sono stati tratti attraverso misure custodiali che sono stati eseguiti proprio oggi. La vicenda ha una notevole gravità per le modalità in cui è avvenuta la rapina. La vittima dell'ufficio postale è stata messa un coltello alla gola con la rapina e grazie all'opera della squadra mobile sono stati identificati i responsabili. E come? Innanzitutto attraverso il tipo di macchina utilizzata che segnava un tipo di targa particolare che ha consentito l'identificazione dei responsabili, i quali poi ha collaborato con l'indagine ammettendo la vicenda e indicando anche il suo complice. Il soggetto era già un po' alle strette perché avevamo il modello della macchina, il colore della macchina e anche un parziale di targa, per cui una volta che è stato convocato in questura non ha avuto grosse difficoltà a raccontarci quello che era accaduto e ad essere poi successivamente collaborativo.